ed eccoci qua in un nuovissimo video un saluto a tutti gli amici del canale dal vostro johnny break ok allora oggi voglio farvi vedere una cosa che ho appena fatto e credo che possa tornare utile a molti di voi praticamente questo come potete vedere è un alimentatore atx di un vecchio computer desktop in questo video vi faccio vedere brevemente la modifica che ho apportato a questo alimentatore come potete vedere ci ho messo un po tensiometro e poi ho tolto un bel po di cavi per lasciare soltanto questi qua allora la modifica che ho apportato all'alimentatore consente di utilizzare più tensioni questo nasce con delle tensioni fisse di 12 volt 5 volt 3,3 volt e poi abbiamo meno 12 volt e meno 5 volt però comunque sono delle tensioni abbastanza basse a livello di potenza quindi quelle che a noi ci interessano sono le tre tensioni principali dell'alimentatore che poi andremo a regolare con il potenziometro quindi le andremo a abbassare e alzare in base alla nostra necessità allora modifica che ho apportato innanzitutto ho scollegato il cavetto rosso della ventola e l'ho collegato su 5 volt sb questo perché perché lasciandolo originale nel momento in cui si va ad alzare la tensione mediante il potenziometro la ventola stessa aumenterà di giri quindi diventa poi fastidioso a livello acustico poi ho collegato questo cavetto sul pin numero uno dell'integrato 494 e sono andato a collegarlo al pin centrale del potenziometro il pin verde l'ho lasciato scollegato voi dite per quale motivo perché questo serve in genere ad accendere l'alimentatore però vi spiego perché oltre alla modifica del cavetto sul pin numero uno del 494 cosa ho fatto il pin numero 4 è stato collegato a massa così non c'è più bisogno di collegare il cavetto verde così abbiamo anche l'alimentatore per così dire sbloccato quindi se la tensione supera i 12 volt non andrà in protezione quindi non si spegnerà ok altra premessa siccome che questi alimentatori sono concepiti per un utilizzo su computer quindi con le loro tensioni originali dovete anche controllare i condensatori elettrolitici più che altro il voltaggio perché se andiamo a portare questo alimentatore tipo a 20 volt però gli elettrolitici magari nascono a 10 volt non va bene quindi dobbiamo poi andare a sostituirli e metterli con un voltaggio maggiore ok penso che ho detto quasi tutto altre cose sul potenziometro ci ho collegato il cavetto della 12 volt a destra e il cavetto nero della massa a sinistra adesso andiamo ad accenderlo andiamo a fare delle prove con il multimetro eccolo qua quindi innanzitutto porto il multimetro in scala volt dopodiché ci vado a collegare il morsetto sul cavetto nero e l'altro morsetto puntale rosso e di conseguenza cavetto giallo dell'alimentatore quindi prima di accendere l'alimentatore assicuriamoci che il potenziometro sia tutto ruotato in senso antiorario andiamo ad accendere e come potete vedere dal cavetto giallo originale delle 12 volt abbiamo 4.88 volt se io vado a ruotare pian piano la tensione andrà a salire mano a mano lo faccio un po veloce ma comunque andando più piano si può regolare molto meglio come potete vedere siamo già 14 volt 16 17 20 volt 21 volt quando questo invece originale e 12 volt ok quindi scendiamo e lo portiamo al valore minimo ecco qua andiamo a fare un altro test scolleghiamo il cavetto giallo e andiamo a collegare il cavetto rosso tensione minima 2.24 volt andiamo a ruotare il potenziometro 9 volt siamo già arrivati a questa tensione andiamo a scendere tensione minima 0.96 volt attenzione originale terminale 2.24 volt vado quindi a scollegare il cavetto rosso e vado a collegare il cavetto arancione tensione minima 0.96 volt andiamo ad alzare leggermente 3 volt siamo già arrivati a 5 volt quando invece questo originariamente è una tensione molto inferiore perfetto allora ragazzi c'è da dire poi anche che c'è il bianco e il blu che sono meno 5 volte meno 12 volt vi faccio vedere brevemente quindi vado a collegare il negativo sul blu e il positivo lo vado a collegare sul giallo tensione minima 8.70 vado a azionare il potenziometro siamo arrivati già a 30 volt quindi vado a scollegare il cavetto rosso dal giallo e lo vado a collegare sul bianco tensione minima 2 volt quindi questo originariamente meno 5 volt quindi siamo arrivati già a 10 volt c'è comunque da dire una cosa io su questo alimentatore non ho potuto sostituire tutti gli elettrolitici quindi ce ne sono alcuni che al momento non avevo disponibilità quindi li ho lasciati originali ho anche sostituito in particolar modo un elettrolitico che qui praticamente era del tutto rotto nel senso che comunque non era più buono da sotto la parte in gomma è fuori uscita quindi non ha più le caratteristiche originali anche perché l'ho anche misurato quindi prima di effettuare questa modifica io vi consiglio di accertarvi che tutte le tensioni dell'alimentatore siano regolari dopo di che voi potete apportarla diversamente andate a sostituire direttamente prima gli elettrolitici e poi fate la modifica benissimo ragazzi il potenziometro che ho utilizzato in questo video è da 500 k però poi potete andare a regolarvi voi stesso in base al vostro circuito per me è andato bene questo ma ogni alimentatore ha il suo circuito di circuito e ovviamente poi dovete andare ad effettuare qualche prova quindi per vedere insomma quale fa al vostro caso benissimo ragazzi io spero che in questo video vi abbia fatto vedere qualcosa che vi può tornare utile se non siete iscritti al canale della prima volta che vedete questo video potete farlo cliccando sul tasto iscriviti lo trovate in basso a destra e se lo fate mi raccomando attivate anche la campanellina così andate poi a ricevere le notifiche ogni qualvolta carico un nuovo video se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace io vi mando un calorosissimo abbraccio e ad un prossimo video del vostro johnnybrek ciao 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 ciao